Conosci la pippa? Conosci la pippa? Certo. C'è la grandota giuomo di qui, c'è la pippa e la newbie. Ci sono le amiche asinelle, ma lui non vuole venire. Bah. Vediamo, lui succederà al grande tal duomo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.